Anche quest'anno rinascita Baschettrimine ha scelto la sua casa il Flaminio per la RBR Christmas Night, il tradizionale scambio di auguri. Presenti la squadra al completo, i soci, gli sponsor e gli abbonati. Dopo i saluti dell'assessore allo sport Moreno Maresi e del sindaco Jamil Sadegolvad, gli auguri del presidente di RBR Paolo Maggioli e del main sponsor Riviera Banca, rappresentato dal direttore generale Gianluca Conti. Quindi la sfilata della squadra ed una foto con tutti, ma proprio tutti, gli intervenuti. Poi l'apertura degli stand gastronomici e la lotteria di beneficenza con il ricavato devoluto all'Arop. Chiusura con la torta. È una grande festa piena di ragazzi, di bambini, di tifosi, sponsor e soci. È sempre un bel momento quello di ritrovarsi qua. È il quarto anno che siamo coinvolti in questa iniziativa, in questa impresa. Molto contenti dei risultati che abbiamo fatto fino a qua. La presenza di tutte queste persone credo sia la testimonianza più bella e più importante dell'entusiasmo, della voglia di basket, della voglia di fare e di crescere che Rimini ha. E quindi siamo molto soddisfatti e siamo molto intenzionati ad andare avanti e a procedere su questa bella impresa. Quale regalo di Natale chiede per RBR? Regalo di Natale è continuare con l'impegno, con la determinazione che sono viste in queste ultime partite, ma su questo non ci sono dubbi. Il coach sta facendo un ottimo lavoro e quindi vediamo che la strada è certamente quella giusta e quindi siamo convinti che raggiungeremo l'obiettivo che in questo momento è la salvezza che abbiamo quest'anno, che è un anno particolare, un anno nel quale dobbiamo uscire più forti e più convinti dei nostri mezzi e dei risultati che possiamo raggiungere. È una cosa eccezionale perché si vede veramente il nostro progetto, l'emblema del nostro progetto, tutti i 300 soci, sponsor, che prima di essere soci e sponsor sono tifosi. E quindi è la cosa più bella che abbiamo in questo progetto, che abbiamo Rimini, ne andiamo orgogliosi e abbiamo tanto senso di responsabilità verso queste persone che vogliamo gratificare. Oggi sono presenti anche tanti abbonati, quindi è una festa condivisa con tutti, con il nostro popolo bianco-rosso, che speriamo di rendere sempre più orgogliosi e ai quali orgogliamo tutti di un grande Buon Natale. Da parte del vostro capitano tanti auguri di Buon Natale e di buone feste a tutti voi e alle vostre famiglie. Sai che si aspettano un regalo ai tifosi bianco-rossi proprio nell'ultimo match prima di Natale? Me lo stanno chiedendo in tanti e cercheremo di esaudire questo desiderio.